Allora, continuiamo il focus sul turismo enogastronomico. Con l'Italian Kitchen Academy abbiamo una rappresentanza al femminile e quindi proprio a lei chiediamo che cosa è secondo te e secondo la tua esperienza professionale il turismo enogastronomico oggi in Italia. Da chi è rappresentato? Chi è che riesce a fare turismo enogastronomico in Italia? Tu sei una cuoca e quindi la tua esperienza personale? Allora, la mia esperienza personale si basa soprattutto sulle tradizioni, tornare indietro per guardare avanti. Abbiamo in Italia tante di quelle cose, dal territorio alla moda, alle bellezze e al... Tanti fiori all'occhiello. Esatto, che nessuno, a paragono a noi, soltanto ci possono invidiare in tutto il mondo. E soprattutto la cucina, perché spaziamo dal mare, alle colline, alle montagne e il nostro bagaio culturale è grandissimo, specialmente sulla tavola, nei vini e tutto e possiamo soltanto dare un grandissimo piacere al palato quando qualcuno si siede e purtroppo ultimamente siamo un po' penalizzati da molte mode che vengono da oltrooceano. Però noi resistiamo sulla tradizione. Non a caso tu operi in un territorio, che è quello della Sabina, che ha un fortissimo richiamo turistico. Da questo punto di vista, quali sono i fiori all'occhiello di questo territorio? L'olio in particolare, ma poi dietro l'olio si trascinano tanti altri prodotti. Soprattutto l'olio extravergine d'oliva, che non è un contorno, ma è un elemento principe del piatto. Poi abbiamo le carni, la verdura e i nostri mari, il pesce, che cerchiamo di mantenere il mare possibilmente più pulito e i nostri formaggi, perché le nostre pecore e le nostre mucche ci danno veramente degli alimenti ottimi. Noi non dobbiamo fare altro che rispettare le materie prime che abbiamo, perché sono veramente ottime. Quindi quello che gli altri fanno fatica a esaltare, noi non dobbiamo altro che elogiarle e metterle nel piatto semplicemente con un sorriso, perché sono talmente perfette che... E questo ci piace così. Richiamare anche i turisti con un sorriso, oltre che con l'appetibilità dei prodotti di nostra conoscenza, è meraviglioso. Presentiamo anche il tuo compagno di viaggio, in questo viaggio enogastronomico. Esatto. Lui è Enrico Camponeschi e insieme a me questo viaggio, questi due giorni che siamo qua e rappresentiamo l'Accademia Italia Kitchen Academy e stiamo qua e proponiamo questa sera dei taglioline al guanciale. Taglioline al guanciale, raccontiamo brevemente come sono stati fatti Enrico. Sono stati fatti in casa da Laura, quindi tutte materie ovviamente tutte genuine, guanciale fatto sempre da loro, pecorino e verranno cotti in pochissimo tempo, essendo pasta fresca, saltati dal guanciale, pecorino e pronti. Già ci sta venendo la colina in bocca, va bene. Grazie Italian Kitchen Academy per naturalmente il nostro workshop sull'Eno Gastronomia, un viaggio attraverso l'Italia e il suo turismo. Grazie.